Lo sguardo tenace, la voce squillante e i gesti ampi scandiscono i passaggi di un discorso che dagli anni Sessanta arriva fino alle crisi dei nostri giorni. A 99 anni Luigi Bettazzi, vescovo emerito di Ivrea, è l'ultimo vivente italiano, e in tutto ne sono quattro, tra i padri che votarono al Concilio Vaticano II. È sabato, lo incontriamo reduci da un venerdì a Savona. Continua a girare l'Italia con un ritmo impressionante. Dal 1999 si è ritirato nel castello vescovile di Albiano di Ivrea, che nel 1989, da vescovo in carica, aveva affidato alla Fraternità del CISV per farne un centro di accoglienza per i migrati. Oggi la piccola comunità ospita otto donne e bambini dall'Ucraina. L'occasione della nostra visita, in questo tempo segnato da forti echi di guerra, è legata alla sua storia pastorale, e anche ideale. Dal 1978 al 1985 è stato presidente Pax Christi Internationalis, l'organizzazione cattolica per la pace, nata nel 1945 in Francia. Più a lungo è stato presidente di Pax Christi Italia, e ancora oggi da presidente onorario si muove per parlare principalmente dei due grandi fatti che hanno segnato la sua vita di giovane pastore, il concilio e l'enciclica Pace Minterris. L'11 aprile 2023 è il sessantesimo anniversario della promulgazione del documento più noto di Papa Giovanni XXIII, quello che cambia una volta per tutte la posizione della Chiesa sulla guerra. La lettera è passata alla storia perché per la prima volta un pontefice si rivolgeva indistintamente a tutti gli uomini di buona volontà, senza distinzioni di fede o di confini. Parole che ebbero un impatto fortissimo sugli equilibri di un mondo che, appena qualche mese prima, aveva conosciuto l'apice della tensione con la crisi missilistica all'arco di Cuba. La nostra intervista a Monsignor Bettazzi parte proprio da qui. L'enciclica Pace Minterris fu, come dire, una rivoluzione, un terremoto. Sul piano civile garantì la pace perché si sa come era venuta fuori. C'era stata la crisi di Cuba, per che il tentativo degli esuri cubani di sbarcare era stato respinto da Fidel Castro, aveva chiesto aiuto alla Russia e la Russia stava mandando per nave dei missili e Kennedy aveva detto fermate i missili o bombardo Cuba. Non potevano fermare i missili se no facevano vedere che dipendevano dall'America che avrebbe dovuto bombardare Cuba se no facevano vedere che nessuno dei due voleva la guerra ma non potevano più fermarsi. Kennedy tocco il Papa e il Papa provò da crucio dalla Russia e poi nell'autunno del 62 fece questo famoso appello politici del mondo fermatevi il mondo non vuole la guerra vuole la pace e i due si fermarono salvando la faccia perché avevano risposta all'appello del Papa. Tandis che viene di sfruttare il IIe Concile Ocumonico del Vaticano, da la gioia e l'esperanza di tutti gli uomini di buona volontà, voici che dei nuaggi menazzati vanno assombrire a nuovo l'horizonti internazionale e semere la credenza in dei milioni di famiglie. L'Eglise, noi le disions ancora in accueillendo le 86 missioni straordinari presenti a l'ouverture del Concile, l'Eglise n'a rien tant a cœur che la paix e la fraternità entre les hommes e elle travaille senza se lasser a les établir. Nous rappeliamo a questo propos le grave devoir di ciò che portano la responsabilità di potere e noi aggiungiamo la mente su la conoscenza, che ascoltano il crì angoissato che di tutti i punti della terra, dei bambini innocenti oveiare, dei persone in comunità montano verso il cielo. Paix, paix. Noi rinuneriamo oggi questa solennale adjurazione. Noi supporiamo tutti i governanti di non restare sordi a questo crì di l'umanità, che facciano tutti ciò che è in loro per salvare la paix. Ciò evitano così al mondo le horreuri di una guerra, dove nulla può prevoir quelli saranno le effroiabili conseguenze. A me piace sottolineare due cose che normalmente non vengono molto richiamate. Che per la prima volta un Papa scriveva non per i cristiani o per i cattolici, ma a tutti gli uomini di buona volontà. Ciò spiega una innovazione propria di questo documento, indirizzato non solo all'Episcopato della Chiesa Universale, al clero ed ai fedeli di tutto il mondo, ma anche a tutti gli uomini di buona volontà. La voce del Papa, come al di sopra o al di là dei limiti religiosi, proprio si rivolgeva all'umanità. E la seconda, a un certo punto il Papa dice, con la situazione e le armi che ci sono oggi, le armi atomiche, pensare che la guerra possa portare alla pace è fuori dalla ragione, alienum a razione, colpitando che la traduzione fu diplomatica. Sembra quasi impossibile pensare. No, è una pazzia pensare che la guerra possa portare alla pace. Queste per me sono le due cose che hanno colpito il mondo, ma che hanno colpito anche la Chiesa. E i Vescovi erano toccati da questa risonanza mondiale che l'enciclica aveva avuta. Sembra che dicessero, è noi che figura ci facciamo. E hanno pensato a una Costituzione, a un documento fondamentale di cui non si era pensato. Della parola di Dio si era pensato, della liturgia si era pensato, della Chiesa si era pensato, ma della Chiesa nel mondo contemporaneo non si era pensato. E' stata sollecitata dalla Patria Minteris. Ecco il titolo latino, le prime parole latine. Gaudium et spes, le gioie e le speranze. E dobbiamo essere grati a Cardinal Balestero, perché pare che prima il titolo fosse i lutti e le angosce. Noi partiamo sempre, dice, ma mettiamo almeno prima le gioie e le speranze. Allora Gaudium et spes. Si rivolge anche quella a tutti gli uomini di buona volontà. Cioè non dice le cose tipiche del cristianesimo, ma ciò che è tipico dell'umanesimo. L'umanesimo genuino. Maritain avrebbe detto l'umanesimo integrale. Tant'è vero che a un certo punto adesso rivescovi. Ma allora noi, il Vangelo che figura ci va? Noi non abbiamo detto come dicevamo prima, il Vangelo è così, gli altri no. Ma l'umanesimo integrale è questo. Tanto più noi cristiani che abbiamo il Vangelo. E direi che allora anche lì c'è questa cosa che è della faccia min terris. E il concilio che Papa Giovanni disse non deve essere dogmatico come sono stati tutti i concili. Cioè, questa è la verità, il dogma. Chi non ci sta scomunicato. Anate ma sì. Ma no, deve essere pastorale. Non dire come facciamo ad allontanare chi non ci sta. Ma come facciamo a dire la cosa in maniera adatta. Ma il concilio pastorale che non ha condanne ne ha una. Ma al numero 80 delle Gaudium Espesse c'è la condanna per la guerra totale. Cioè la guerra totale è contro Dio e contro l'umanità e va esclusa in ogni modo. Cos'è la guerra totale? Allora si diceva la ABC, atomica, biologica, chimica. Ma dice il testo, la guerra totale è quella che coinvolge le popolazioni civili o tante città. Come sono tutte le guerre? Il nostro amico teologo diceva a questo punto un cattolico non può fare il soldato se non facendo obiezioni di coscienza almeno implicita alla guerra totale. Ti mandano a bombardare con delle bombe atomiche e tu in coscienza non puoi. Ecco, questo qui direi è la patria min terris e l'influsso che ha avuto sulla società e sul concilio. E' vero che anche Putin ha sbagliato, ha già sbagliato il conto, perché lui si è invaso, era sicuro che gli altri accettavano. Non condanneremo abbastanza Putin anche se dobbiamo ammettere che l'abbiamo sollecitato noi, perché la Nato era nata, era assorta contro l'alleanza bolshevica. Caduto il bolshevismo, la Russia, la Nato doveva cadere. Due volte a Gorbachev avevamo promesso che avremmo abolito la Nato e invece l'abbiamo mantenuta e l'abbiamo allargata anche a tutti i paesi che prima erano sotto l'alleanza bolshevica. E adesso stavamo preparando l'ingresso dell'Ucraina nella Nato. E l'Ucraina è la madre patria della Russia, anche religiosamente. Il primo patriarca era Kiev, poi è andato a Mosca. Noi abbiamo tutti la mentalità armata, ci manca la mentalità non violenta. Ma dice la non violenta è la passività, no? Non violenta è rispondere in modo non violento. Gandhi con la non violenza ha ottenuto l'indipendenza dell'India. Martin Luther King con la non violenza ha ottenuto il riconoscimento dell'India. Ah, ma poi li hanno fatti fuori. Certo, perché la non violenza disturba i violenti. E allora li fanno fuori a cominciare da Gesù. Il secondo, in quale modo poter scoraggiare il violento. E la terza cosa a cui pochi si richiamano è l'interposizione. Cioè un gruppo di volontari che va in mezzo e obbliga i due combattenti a smettere. È già stata usata, per esempio, nel Libano. E quando nel 92 che i 500 matti dicevano andarono a Sarajevo che era bombardata dai serbi, dall'esercito serbo, finché erano presenti i serbi non bombardarono. L'interposizione sarebbe compito dell'ONU. Ma l'ONU non può agire perché non è democratica. È ancora condizionata dal fatto che cinque nazioni, per aver vinto 80 anni fa una guerra, hanno il diritto di veto nel Consiglio Permanente. Basta essere amico di uno dei cinque per bloccare tutto. Israele sono almeno 30 anni che continuano a infrangere le regole dell'ONU di non fare colonia nel territorio dei palestinesi. Ma l'ONU ha mai potuto intervenire perché l'America ha sempre messo il veto. La Siria ne ha fatti di tutti i colori, ma non interveniva perché la Russia metteva il veto. E adesso qualunque cosa per l'Ucraina la Russia metterebbe il veto. Ma questo qui impedisce gli interventi diplomatici che sarebbero la seconda cosa. Dopo la mentalità interventi diplomatici ma bisogna crederci anche la diplomazia non conta più niente. L'Europa è intervenuta diplomaticamente verso la Russia dopo 60 giorni di guerra. Vuol dire che sapeva che non contava niente. Non conta niente perché è la Nato che conta. È la Nato perché si è mantenuta e si mantiene perché per diritto il capo della Nato è un generale americano. Quindi è la politica americana ed è alla politica americana che serve la guerra in Ucraina perché è la guerra della politica americana contro la politica russa. quindi ecco le tre cose per la pace mentalità non violenta diplomazia sincera e insistente e interposizione volontaria organizzata da un'ONU che però sia diventata più democratica. E lo ripete Papa Francesco la guerra è una pazzia quella di offesa ma anche la guerra di difesa è sempre una guerra è una pazzia. Dalla gioia e le speranze che aprivano l'enciclica Pace Minterris all'attualità di una guerra quella in Ucraina che è tornata a insanguinare l'Europa. Rispetto al tempo del concilio il mondo contemporaneo con i processi di globalizzazione è diventato via via più complesso. Per Monsignor Bettazzi però le sfide restano le stesse di allora e anche gli ostacoli come quello di un'informazione che soffre di pesanti condizionamenti. I mezzi di formazione sono tutti in mano a compagnie che ci guadagnano dalle guerre perché la guerra è l'arricchimento delle fabbriche di armi e le società che fabbricano armi sono quelle che hanno anche i mezzi di informazione e quindi è difficile che un mezzo di informazione parli del disarmo sì ne parlerà in teoria ma non delle strade vere per il disarmo i mezzi di informazione non diranno mai bisogna smettere di costruire armi perché se tu costruisci delle armi dopo devi fare delle guerre per distruggere le armi che hai fatto e per prepararne delle nuove per motivi di fede io dico sempre che quando il Signore si è messo a creare il mondo ci ha pensato un po' dice ma quante grane verranno e poi alla fine ha detto ma sì vale la pena perché alla fine se voi pensate per esempio alla carta dei diritti umani dell'ONU 10 dicembre 1948 è una carta che qualcuno non ha chiamato il Vangelo secondo l'ONU perché sono principi il diritto di ogni essere vivente ciascuno al di là delle razze delle divisioni la Costituzione italiana è nata da persone che prima si combattevano e hanno fatto una Costituzione invidiata in tutto il mondo a un certo momento al di là delle previsioni ci sono degli aspetti positivi che ci fa non solo sperare ma credere che pian piano se ognuno cerca di fare quello che può nella sua vita personale e nella partecipazione alla vita sociale anche se va controcorrente anche se soffre delle difficoltà delle persecuzioni alla fine è un seme dice il Vangelo dice è il seme che cresce anche quando il contadino dorme ecco e allora è da pensare che le buone idee marcino viaggino anche in mezzo a un mondo così degenerato Helder Camara è un vescovo brasiliano il quale ha scritto un libro per ricordare le memorie del concilio il libro è intitolato Roma due del mattino perché quando è diventato prete aveva promesso al signore che tutte le notti avrebbe fatto un'ora di preghiera durante il concilio racconta in questo libro pregava pensando al concilio e diceva quante volte ho detto a Papa Paolo che facesse una commissione per l'attuazione del concilio ne ha fatto una per l'attuazione della liturgia e qualcosa si è ottenuto ne faccia uno per l'attuazione del concilio se no il concilio rimane in mano al Vaticano che non l'ha mai voluto e difatti finito il concilio si era pacificato tutto tanto più nel 68 qualcuno ha ecceduto nelle riforme e hanno detto in Vaticano guarda cosa succede niente si è soffocato il concilio poi i papi ognuno ha fatto quello che pensava credeva ma già con Gara il padre famoso diceva ci vogliono 50 anni per capire bene attuare il concilio e non è un caso che il signore ha voluto dopo 50 anni un papa come Bergoglio che è il primo papa che non c'era il concilio perché anche Ratzinger non era vescovo però era teologo esperto eccetera e Bergoglio nella sua pastorale fa due cose che mettono in pratica il concilio la prima il concilio aveva parlato della chiesa della chiesa non più come società perfetta in cima il papa poi i vescovi i preti e poi i laici ma rum in alto il popolo di Dio ogni battezzato eh anche la gerarchia ma come servizio ministero in latino si dice ministerio come servizio al popolo di Dio ecco questo non era stato attuato e papa Francesco con la sinodalità che cos'è la sinodalità il sinodo è far parlare il popolo di Dio i battezzati poi la gerarchia organizzerà ma prima bisogna ascoltare i battezzati perché lo spirito santo lavora anche nella gerarchia ma lavora nel popolo di Dio gli ordini religiosi mica li hanno inventati i cardinali San Francesco non era neanche prete Chiara Lubic il focolare non era neanche un uomo maschio ecco poi si la gerarchia deve coordinare quindi ascoltare la sinodalità è il popolo di Dio dar la voce al popolo di Dio che è una cosa importante perché non abbiamo mica la mentalità a un gruppo di pretini giovani in cui parlavo diceva sì sto a sentire quel che dicono i giovani dicono delle sciocche devono ascoltare quel che dico io no la sinodalità è credere sì può intervenire vedere ecco correggere ma ascoltare il popolo di Dio questo è mettere in pratica l'idea di chiesa che il concilio ci aveva dato in concilio era venuto fuori soprattutto dai vescovi dell'America Latina l'idea della chiesa dei poveri e Papa Paolo aveva detto allora c'era la guerra fredda tra America e Russia aveva paura che parlando dei poveri si facesse il gioco della Russia aveva detto guardate non parlate della chiesa dei poveri faccio io un'enciclica che fece la popolora un progresso ma è più sulla pace che sui poveri e Papa Francesco bisogna dare la voce ai poveri tanto è vero che durante il concilio i vescovi la chiesa dei poveri si radunava al collegio belga e verso la fine del concilio non potendo parlare della chiesa dei poveri dal collegio belga abbiamo detto beh ci troviamo noi alle catacombe di Omitilla e a dire una messa e a presentare un documento in cui i vescovi almeno personalmente si impegnano a vivere più poveramente più semplicemente il patto delle catacombe è stato chiamato eravamo 42 anche lì sono rimasto solo io ormai ma poi dissero al Papa ognuno dei 42 faccia firmare gli amici quindi portarono 500 firme ma adesso il Papa Francesco dice non è la chiesa dei poveri cioè la chiesa che aiuta i poveri l'ha sempre fatto sono i poveri che ci dicono come deve essere la chiesa sono i poveri che ci insegnano cos'è veramente l'essere umano bisognoso di Dio e bisognoso degli altri non c'è a noi che dobbiamo insegnare i poveri sono i poveri che devono insegnare a noi e allora l'idea del concilio della chiesa dei poveri viene attuata e perfezionata oggi da Papa Francesco che dice cominciare dagli scarti da quello che viene scartato da quello che viene marginato perché è lì dove si vede che cos'è veramente l'essere umano l'umanità e allora io dico ecco dopo 50 anni la pastorale di Papa Francesco è quella che finalmente dà una spinta per la vera attuazione del concilio è chiaro che disturba la mentalità clericale ecco la mentalità dei ricchi chi è che domina il mondo i ricchi e i potenti i quali organizzano l'umanità per diventare sempre più ricchi e sempre più potenti e i poveri diventano sempre di più e sempre più poveri ma se al di dentro ognuno cerca di fare nel suo a tutti i costi anche a costi di croci e cerca di incoraggiare a chi gli sembra movimenti sinceri per la pace se ognuno personalmente e socialmente cerca di fare del suo meglio come si è arrivati alla costituzione tra persone che prima si combattevano come si è arrivato alla carta dei diritti umani dell'ONU anche in un mondo così diviso se ognuno cerca di fare quello che può individualmente e socialmente deve sperare deve essere certo che prima o poi si camminerà verso un mondo migliore più che la speranza è un impegno l'impegno che ho detto agli altri è per il mio prima il mio incoraggiare ognuno a fare quello che può e quello che sa personalmente per un cammino di vera pace di non violenza e di partecipare di incoraggiare quei movimenti che qua e là ci sono che sono autentici movimenti non violenti e che sono l'unico cammino per la vera pace arriverà quando arriverà magari nel 2300 però essere certi che prima o poi verrà se ognuno in buona volontà cerca di fare personalmente e socialmente quello che può Amen Grazie a tutti